Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fibili, dove per lavori tra Ginestra, Fiorentina e La Strassigna si segnalano due chilometri di coda in direzione Firenze. In A1 in direzione Bologna per lavori corsie di sinistra chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Ci sono due chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. Rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Spostandoci in A11 in direzione Firenze e rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Montecatini e Pistoia. Infine per i treni la circolazione attualmente interrotta tra le stazioni Di Marradi e Burgo San Lorenzo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!